Vi faccio una premessa, io oggi non voglio parlare di emergenza, io oggi voglio capire perché siamo arrivati all'emergenza. La Valle del Mandriole fa parte di un SIC ZPS e ha un piano di gestione, nel piano di gestione di questo, ed è in capo al parco del Delta del Po. Nel piano di gestione risulta scritto che c'è una grossa criticità riguardo alle cause di minacce e criticità. Da dieci anni il complesso palustre evidenzia stati di alterazione ambientale causati da un costante aumento della turbidità dell'acqua e da peisodi acudi di intrusione marina, estinzione dovuta però alla sofferenza e alla gestione dei livelli idrici. La botte del sifone non più in uso non funziona più, prima era alimentata dal sifone dell'amone, adesso bisognava gestirla tramite canali. Quel piano di gestione diceva anche che c'erano delle azioni da mettere in campo, c'erano delle azioni già preventivate, alcune già finanziate, anche col PSR, 247 mila Euro del piano di sviluppo rurale 2007-2013, altri 160 mila Euro sempre sul piano di sviluppo rurale, un progetto ovviamente più costoso di 1 milione e 700 mila Euro ad avere su Life che prevedeva la costruzione di una nuova traversa sull'amone. E tutto questo era già noto da tempo perché nei convegni che sono stati fatti anche nel 2018, le osi palustri ravennati, un paesaggio instabile e minacciato, quello che si diceva già in consiglio comunale di Ravenna già da diversi anni, lo stato della valle e della canna può anche rappresentare un'emergenza di sanità pubblica, dalle degliettine degli uccelli acquatici può infatti ingenerarsi, soprattutto in acque calde e scarse, il botulismo avviare, una delle principali cause di strage per avvelenamento di tali volatili. Sapevamo già tutto, avevamo le azioni, abbiamo un parco che deve vigilare e agire, ma poi ci troviamo di fronte a quello che è successo. Io quindi oggi chiedo all'assessore come mai siamo arrivati a questo punto, se il parco è in grado di gestire la biodiversità all'interno di quel parco e che cosa ha intenzione di fare la regione? Non in stato di emergenza, ma in stato di risolvere quel problema. La giunta sta facendo un approfondimento e come ha detto il consigliere Liberani al momento siamo in attesa di conoscere gli esiti degli istruttori avviati dagli uffici che vede coinvolti diversi soggetti pubblici, quali il parco del Delta, il comune di Ravenna, Ispra, Servizio Tecnico Regionale Agricoltura Caccepesca e la Polizia Provinciale. In particolare è stata richiesta ad Ispra e ai carabinieri forestali una relazione sui fatti e sulla situazione determinata si ed è stato richiesto all'ente gestore del parco e al comune di Ravenna quale sia lo stato di attuazione delle misure di conservazione contenute nel piano di gestione del sito. Maggiori informazioni potranno essere fornite al compimento delle istruttorie richiamate. E per quanto riguarda le denunce presentate negli ultimi 4 anni, cito il suo virgolettato, mi preme sottolineare che i soggetti competenti sono in passato sempre intervenuti a porre in essere gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza del sito e non c'è quindi gli elementi per presumere che non si sarebbero utilmente attivati anche nella presente circostanza. Grazie Presidente, ovviamente non sono soddisfatto perché io ritengo che ci siano precise responsabilità e che si manifestino nell'incapacità gestionale delle enti di gestione dei parchi. Io ricordo un intervento del Ministro Costa, mi sembra, l'anno scorso, quando parlò agli enti che c'era poca spesa per l'impegno alla conservazione della biodiversità. Alcuni parchi danno, disse il Ministro, due terzi del loro bilancio ai comuni non per la gestione della biodiversità, ma probabilmente per tutela politica e elettoralistica, io sto parlando degli enti di gestione dei parchi, perché abbiamo citato prima i 400 mila Euro spesi per le porte di accesso al parco del Delta del Po, 1 milione e 300 mila Euro per la sala degli accetti a Comacchio. Io penso che quando destiniamo questi fondi, anche come regione, agli enti di gestione dei parchi, dobbiamo prima vedere se quegli enti tutelano la biodiversità e invece non tutelano o tutelano piuttosto qualcos'altro. Su questo io penso che bisogna come regione intervenire, perché ormai abbiamo avuto l'ex Cercom, l'ex Zuccherificio, la Valle della Canna e ogni volta noi ci troviamo qui a dover intervenire, cercare di mettere una toppa, cercare di stoppare una gestione che è inaccettabile. Abbiamo discusso due mesi fa del regolamento di cazzo, delle aree contigue, dove siete stati costretti a mettere in legge una proroga di un regolamento di cazzo che è illegittimo, perché lì la gestione della cazzo nel zone limitrefe non è legittima e fra l'altro la regione non ha incassato e non incassa i soldi che deve incassare. Ecco allora, se c'era un Presidente che si è dimesso quando il Ministro Costa valutava che forse era giusto, e io sono d'accordo con lui, rendere nazionale quel parco, forse è il caso che si dimetta ora, non quando un Ministro dice che forse è che per risolvere una gestione è il caso che quel parco diventi un parco nazionale. Grazie.